Ultima partita quest'oggi nel pomeriggio del Palasenna Si stanno per affrontare al Montesilvano Futsal Cap Il Tolna Rozi Futsal contro la Lazio Lazio è la vostra sinistra Alla vostra destra il Tolna Rozi categoria di unores femminile Cipiani va il colpo di testa, il palo pieno da parte di Barca Sfera che rimane lì Scivola sul pallone, Griego gliela porta via, calcio di rigore E minimo anche il cartellino per l'autrice del fallo E cartellino giallo, il tocco evidente Bonanni contro Heizmann Bonanni, una cannonata che batte il portiere avversario Vantaggio della Lazio sul calcio di rigore 1-0 Gioco, 1-0 Beh gioco di gambe, il tiro da rete del pari di Greta Malati Ha saltato un'avversaria con un gioco di prestigio Con il piattone, abbattuto imparabilmente il portiere avversario è 1-1 Centrato da Barca che andava per la doppietta personale Fai il tiro di Amici 2-1 Lazio Costanza Amici proprio allo scadere Amici cercano il dato D'ha dato mezzo e mezzo E la Lazio va sul 3-1 Bonanni va via Fa il pallonetto Un gol sensazionale Da parte di Bonanni Tripletta personale Barca Fa tutta una sola Barca Apre la difesa avversaria Il pallone Per da dato che segna il 5-1 della Lazio Grande Barca A partire, a farsi metà campo E a mettere l'assist perfetto per la numero 15 Cipriani ruba un ottimo pallone Perfetto per Grieco Cipriani 6-1 della Lazio In totale dominio In questo secondo tempo Amici Amici Pesca la base del palo Direttore di gara dà un'occhiata al cronometro E termina qui il match Il tolna Rozi Fuzzal Regge quasi un tempo Contro la Lazio Che poi dilaga 6-1